ok non arrivi nessuno davanti ora c'è un pallino nel cielo Pier perché esci? ah sei impazzito cv c'è un carro davanti che ci sta guardando con aria davanti a te è artigliere motore vabbè c'è un altro cazzo sta sparando al nostro amico qui a fianco è un mx30 oh cazzo ce l'ho fatta ce l'ho fatta come sei uscito da qui? non lo so però siamo circondati se lo vuoi proprio sapere io cerco di pusciare un mx ok arriva uno davanti gli ho fatto qualcosa cazzo il mio radar ah dai abbiamo un leggero ha spawnato il leggero è qui sono me ho visto partire il drone dal nulla c'è un carro che sta passando qua è lui? no è un f40 gli ho fatto di tutto non può combattere c'è un carro là è un leggero non so dove cavolo sia però ho visto partire il drone oltre il fatto che c'è proviamo ad agganciarlo con alt F dai oh F alt cos'è? F alt però devi mettere F F alt F ah F alt non F contra ah ma stava già andando in giro arriva altro arriva altro proviamo alt F oi che alt io devo mettermi così poi devo fare così 7 km che la faremo? aure 11 distanza 350 pergare esplosivo ad alto potenziale questo c'era con me no questo qui sgancia sgancia bombe ah no viene giù viene giù è impazzito di oi d d d Grazie.